Un'edizione da record per quello che rimane uno dei momenti più amati e partecipati della pallavolo padovana, la festa con Babbo Natale del mini volley che si è tenuta domenica 13 dicembre 2015. Numeri importanti per un evento diffuso su tutto il territorio della provincia di Padova. Sì, eccoci, siamo arrivati alla festa più importante dell'anno, la festa con Babbo Natale. Siamo qui a Cittadella come sede per l'Alta Padovana. Qui sono presenti più di 400 bambini. Le altre sedi sono per il Centro, Limera, Selvazzano e Salboro, per il Piovese con Cadalbero e nella Bassa a Solesino, per un totale di più di 1500 mini atleti partecipanti. Un vero record. Fondamentale per l'uscita delle diverse feste la collaborazione delle società. Tante realtà hanno lavorato fianco a fianco con il Comitato Provinciale, come il Team Volley, che ha organizzato la tappa di Cittadella. La collaborazione col Comitato e con le società dell'Alta Padovana ci permette di utilizzare questa struttura che ci dà il Comune di Cittadella e riusciamo a fare una festa unica con tutte quante le altre società dell'Alta Padovana. Con il Comitato abbiamo sempre collaborato e continueremo a collaborare, anche perché vedete quanti bambini ci sono, è un bel divertimento. A Selvazzano Dentro, nell'evento del Palasport Ceron, l'organizzazione invece è stata quella del Medoacus. Oggi l'abbiamo visto, abbiamo un sacco di bambini che si sono divertiti e questa è una soddisfazione enorme. Li vedo tutti entusiasti, poi con questi cappellini, li abbiamo proprio coinvolti e siamo veramente molto felici. Fondamentale, la disponibilità di impianti idonei. Anche perché abbiamo una capienza qui di 200 e passa, oggi ne abbiamo 200 bambini, per cui direi che siamo fortunati in questo territorio ad avere queste strutture e di questo dobbiamo ringraziare il nostro Comune di Selvazzano Dentro. Le altre società che hanno collaborato con il Comitato Provinciale sono state Pulvolley, AS Solesino, Pulpatavium e Salboro Volley. Tutte hanno contribuito a dare vita a una domenica indimenticabile. Una grande giornata di pallavolo oggi a Padova. Siamo riusciti con 1500 bambini disloccati in tutta la provincia a fare una grandissima festa di Babbo Natale. È un ulteriore orgoglio, un ulteriore pezzettino di mattoncini che noi andremo a mettere nella città della Speranza con la raccolta fondi che stiamo facendo ormai da molti anni e della quale siamo molto orgogliosi. I mini amici del mini volley sono sempre al centro delle attenzioni di tutto il movimento della pallavolo padovana. Il mini volley è quello che noi consideriamo il cuore di tutto. È il volano da cui parte tutto il movimento dall'Under 13 fino ai massimi livelli. È il punto in cui noi crediamo di più e dove investiamo sia tempo sia persone e anche denaro. È quello che senza il mini volley il movimento della pallavolo padovana non sarebbe quello che attualmente è attorniato ai 10.000 tesserati. Grazie a tutti.